Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, sono Angel3Dark3 Bentornati sull'angolo dell'unboxing con altro video acquisti, welcome in the dark, partiamo subito Allora, ho preso una guida che cercavo da tantissimo tempo, costa carissima, su internet si trova 149€ una guida Cioè, robe da pazzi, l'ho trovata diciamo un prezzo più ragionevole, più equo E sto parlando della guida di Kingdom Earth, il primo Kingdom Earth, ma la guida è veramente bellissima È della Piggy Black, eccola qua Ti dico, è stupenda Tutto in italiano Questo libro è la vostra chiave e spiega tutto, 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 tutto Poi dentro ci sono anche degli artwork Immagini, disegni È davvero molto, molto completa Davvero, davvero bella, davvero ben fatta Forse è una delle migliori guide esistenti A tempo dietro ho preso quest'altra Kingdom Earth 2 L'altra guida Bellissima anche questa Dovevo dire, molto, molto spesse Sono davvero ben fatte queste guide A proposito Ci sarà un altro video Penso non lo unirò a questo, ma lo guiderò Che sarà sui manga Mi stanno arrivando diversi manga, diversi fumetti Farò un video poi apposito Passiamo a videogiochi E ho preso Minecraft Sala 20 l'ho preso a 17,99 Di sconto Su PS4 Eccolo qui Andiamo ad aprirlo Sono curioso di vedere se ha qualche manuale Che cosa Diciamo che io a Minecraft non mi ero mai avvicinato Mi sono avvicinato, che sbaglio, giocandoci da cellulare Eh sì E giocando da cellulare Mi sono divertito Sembra una minchiata Ma è una figata Eccolo qua Molto bello Non c'è il manuale come immaginavo Comunque bello Per esclusiva Microsoft Adesso c'è anche su PS4 Un altro acquistone Questo è un vero acquistone Per Xbox One Guardate un po' Destiny Stava a 110 euro Non so se si vedete Non si vedete perché è tutto sfogato Comunque c'è due volte il prezzo 109 109,99 110 euro L'ho trovata al prezzo della standard A 69 E l'ho presa subito Eccola qui Non so cosa ci sia dentro Adesso andiamo a fatturare un unboxing Perché non l'ho preso su PS4 Destiny Perché Perché diciamo che la Bungie È la casa produttrice di Halo Che stava su Xbox Quindi penso Che questo gioco giri meglio Su Xbox One Poi il server funzioni meglio Per l'online E a quanto ho sentito dire Ci sono stati diversi problemi Lo PS4 non gira tanto Bene Ma non per il gioco Ma proprio l'online E il PSN Che a volte Fa brutti scherzi Comunque io comprerò Sto gioco anche su PS4 Così confronterò Le due versioni Per vedere anche Se la grafica Cambia E la velocità Cambia Allora Si apre così Vediamo 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 No Così Sì Così C'è una sopraccopertina Eccola qua Che profumo di nuovo Bellissimo Questa è la sopraccopertina Mettiamola qua dietro E questo è tutto E questo è tutto lo scatolone Veramente bello In rilievo Sembra tipo velluto Veramente ben fatto Il simbolo Di Destiny Ricorda molto Un simboletto Visto in halo Nell'armatura Andiamo ad aprire Ecco si tira così Questa scritta Qui possiamo trovare I contenuti Andiamo subito a vedere Questo libro Molto antico Sembra Wow Per vedere Questa Limited Mi sta Piacendo Attenzione Qua c'è dei codici Qua armi Armamenti Bello Una specie di artbook Con Nelle immagini E spiegazioni Di tutte le armi Ed è tutto in italiano Ora si che ci siamo Molto molto bello Guardate qui Fichissimo Molto molto bello Comunque include Espansione 1 E espansione 2 Tanti moriano messaggi Eccolo qua DLC Spigo E queste cartoline Che non vanno spedite Sono da collezione Sembra russo Non so Questa 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 Una lettera Tutta sporca Infangata Tipo che È stata ritrovata per terra Non è sempre stata così Questi mondi in tempo Erano nostri Comunque C'è anche questa lettera Non potete vedere Molto figa Questa è una specifica Quino No Questa è una mappa Una mappa Una mappa stellare Boh Sì una mappa Sembra una mappa stellare Molto figa Devo dire Questa è una carta È fatta benissimo Non so che carta sia Ma è una carta particolare Orbis Terra E' in latino E' un latino antico Figa 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 Molto molto bello Tutto quello che si trovano qua dentro È figo Mi sono deciso a comprare Anch'io a Destiny Visto che Lo stanno provando tutti Dicono che è bello Devo dire che Questo È fighissimo Proprio al tatto Si sente che è tipo Un quaderno antico Tutto il rilievo Molto Molto bello Soldi in me spesi Una limited fatta così È fatta benissimo Qua dentro non c'è più niente C'è solo Il cofanetto Eccolo qua La steelbook Molto bella Di questa Non so se sia numerata Penso di no Vado ad aprire Tolgo il solito sigillo Come facevo Sui giochi Xbox 360 La mia vecchia abitudine E' notare che c'è scritto solo Xbox Xbox One Xbox interessante Solo Xbox Figa Veramente figa Sta steelbook Sembra semplice Però Invece è bella Molto bella Allora Gli attacco questo Allora Steelbook è così Dietro è così Molto molto bella Allora dentro ho trovato Questo manualetto Che non serve a niente E questi altri codici Che vedete qua Sono Emblema del giocatore Involucro Spettro E variante per nave Del giocatore Figo Intanto a me la voce Se ne sta andando E sto anche morendo Comunque Questo Era tutto quello Che conteneva L'edizione Limitata Dei destiny Diciamo Per il prezzo Standard Di lancio Questo Qua E' andata Più che bene Come sempre Vi ricordo Se il video Vi è piaciuto Un pollicione In su Commentate E al prossimo Video Ciao a tutti Ragazzi Ciao a tutti